I problemi che ci sono sono ancora notevoli e sono dati soprattutto anche se non solamente dalla fiscalità che nonostante gli interventi dell'ultima legge di stabilità e quindi l'eliminazione della tassazione sulla prima casa è ancora una fiscalità opprimente che si sviluppa soprattutto sugli immobili non abitativi, negozi, uffici e su tanti altri immobili abitativi che non sono cosiddette prime case, abitazioni principali. Quindi è un'occasione per dire quello che stiamo dicendo anche in questo periodo al governo e cioè che in questa prossima legge di bilancio c'è la necessità di ulteriori interventi sulla casa e sugli immobili in genere per proseguire un percorso iniziato, solo iniziato. Sicuramente le ragioni sono tante della crisi del commercio e sono legate anche ad aspetti extra fiscali, però uno sul quale si ha la possibilità come governo e come Parlamento di intervenire è sicuramente quello fiscale. Una ipotesi iniziale potrebbe essere, e su questo c'è stata un'apertura del viceministro Morando dell'economia proprio nel nostro convegno a Piacenza, quella di cominciare a detassare attraverso una ciotola esec almeno le nuove attività commerciali che vengono aperte in un locale.